Buongiorno a tutti amici pescatori, sono Antony Pesca come sempre dal mio store di Albano Sant'Alessandro. Quest'oggi il video è un tutorial che avevo già anche anticipato, come potete vedere stiamo parlando di trotta laghetto. Spesso, anche se è elementare, perché direi che è proprio elementare, ci sono persone che si avvicinano per le prime volte alla pesca alla trotta in laghetto e non sanno come si fa una montatura. La montatura ha ammesso e concesso che pescare le trotte si possono pescare in mille modi veramente. Questa è una delle tipologie principali che si utilizza in trotta laghetto. Parliamo della pesca a striscio, striscio che riguarda tremarella, vetrino, tutte le varie varianti della pesca a striscio. Allora, la montatura è molto semplice e ve la vado a illustrare subito. Allora, abbiamo il nostro filo, che io ho utilizzato come al solito, un filo colorato, piuttosto grosso, in modo che si possa vedere bene. Questo filo è proveniente dalla nostra canna, praticamente, dal mulinello e dagli anelli. Esce il filo e siamo arrivati a questo punto. Abbiamo il nostro filo. Prendiamo il nostro filo. Lo dobbiamo, per la prima cosa, infilare nella nostra bombarda. Andremo, praticamente, dalla parte più sottile, dal tuo vicino, infiliamo il filo nella bombarda. Nel caso in cui avessimo problemi a infilare la bombarda, perché può succedere, qui, essendo una bombarda nuova e tutto quanto, problemi non ne abbiamo. Io vi faccio vedere questo accessorio, non so se si vede, che ha una piccola asola in metallo. Questo, nel caso in cui la bombarda fosse usata, sporca, con dentro un po' di sabbia, la si soffia, non si libera, non si riesce a infilare il filo, si infila questo ago, diciamo, all'interno del tubicino, si mette il filo nell'asola e si tira dentro il filo. Questo è un passafilo utilissimo, appunto, quando dovesse capitare che la bombarda non si riesce a infilare il filo, si arriva a metà, il filo non entra, eccetera, eccetera. Quindi questo è solo per farvi vedere che è un accessorio che può essere utile. A questo punto abbiamo infilato la nostra bombarda. Non ci rimane altro che mettere questo gommino, che è un paracolpi. Adesso mi avvicino, se no non ci vedo. Allora, questo gommino paracolpi lo andiamo ad infilare nel filo e sarà quello che eviterà che i colpi che la bombarda andrà a dare sulla girella vengano ammortizzati, in modo che non si rompa il nodo e che non si stressi troppo il nodo e a un certo punto si slega il nodo dalle botte che prende in fase di lancio e perdiamo tutto, bombarda, girella, tutto quanto. Andiamo a legare la nostra girella a questo punto. Direi che qua possiamo fare il nodo che vogliamo ma possiamo far benissimo un palomar che è molto semplice e poi in un video vi farò vedere anche quello. Comunque si infila il filo si fa un occhiello spero che si veda tutto bene lo si infila è molto semplice prima di chiudere il tutto penso che tantissimi lo sanno si va ad infilare la girella in questa asola spero che si veda adeguatamente cercando di fare in modo che voi lo possiate vedere la girella ma all'interno dell'asola mi sembra che non sia entrata ecco fatto ed andiamo a tirare il nodo quando tiriamo il nodo adesso lo bagniamo col vecchio sistema e tiriamo per bene il nostro nodo questo è un nodo che è molto sicuro lo si può fare anche doppio tagliamo l'eccedenza a questo punto abbiamo la nostra bombarda che come potete vedere è montata correttamente in modo che quando subisce i colpi del lancio non si va a slegare il nodo prendiamo il nostro amo mi sono preparato ovviamente un amo montato questo è il filo col amo sempre un filo colorato abbiamo il nostro amo montato generalmente del 6 o dell'8 ed andiamo a legare la girella infiliamo il filo alla girella utilizziamo un altro nodo perché il palo ma non lo possiamo più fare torciamo il filo facciamo un po' di giri ed andiamo a infilare il filo nella piccola asola che si è formata e lo tiriamo bagniamo come sempre per stressare il filo e per non farlo assegnare tiriamo per bene sistemiamo il nodo ci assicuriamo sempre nei nodi ci assicuriamo la tenuta che è molto importante tagliamo l'eccedenza lasciando un baffo controlliamo sempre per bene le tenute dei nodi ed ecco che la nostra montatura praticamente è pronta semplicissima velocissima da fare il finale adesso è corto era solo per farvi vedere chiaramente da qui al lamo calcolate che dobbiamo avere generalmente circa due metri di filo un metro ottanta due metri di filo per lavorare bene e questa è la montatura è già completa ovviamente la stessa cosa ne ho preparato qua per farvi vedere si utilizza per un piombino per un saltarello per un tremarello per un vetrino sempre la stessa cosa non andremo a far altro che mettere anziché la bombarda qualsiasi qualsiasi altro piombo da striscio che sia necessario alla nostra situazione di pesca questa è la montatura è semplicissima è facilissima secondo me però giustamente chi inizia si avvicina adesso alla pesca non sa non conosce e quindi mi sembrava giusto illustrare anche questo servono poche cose il paracolpi che è un gommino semi rigido diciamo la girella e il piombo che andremo a utilizzare ovviamente l'amo montato nel caso delle tremarelle e saltarello il finale dell'amo quindi da qui a qui questo finale sarà lungo un metro intorno al metro e mezzo generalmente si fa un po' più corto rispetto a quello che si fa quando si fanno le pesche a distanza con le bombarde più pesanti io spero che questo tutorial vi sia stato utile per imparare uno che è ancora l'abc della pesca ma sicuramente necessario per chi pesca in trotta in laghetto così che si possa muovere in autonomia quando si deve sostituire una montatura quando si rompe qualcosa o si attoccina la montatura che purtroppo questo succede io vi aspetto come sempre nel mio store di Albano Sant'Alessandro vi invito ovviamente ad iscrivervi sulla mia sulla mia sulla mia pagina facebook nel mercatino toni pesca e iscrivete al mio canale youtube e vi aspetto per il prossimo tutorial o il prossimo video che faremo grazie a tutti buona giornata grazie a tutti